La chiamano nicchia, ma sta diventando sempre più importante, parliamo dei risi aromatici, la chiamavano nicchia. Parliamone con Carlo Minoia, direttore Sapise. Quali novità ci porterà il 2018? Sicuramente sui risi aromatici è una tematica di sicuro interesse. È chiaro che per aromatico nel mondo si conosce il basmati come riso di riferimento. Noi stiamo lavorando su dei risi italiani al 100%, che comunque sono ben apprezzati dal mercato. Stiamo lavorando molto in questo senso anche come ricerca e mi permetto di dire che tra gli aromatici particolari Sapise vanta il fatto di avere una delle varietà più importanti, anche qua dicono di nicchia, vi posso garantire che è una nicchia che sta crescendo molto, che è quella del riso venere. Oltre che aromatico pigmentato con caratteristiche molto particolari. Esatto, un riso che apprezzato direi dai più grandi chef, sta avendo un riscontro estremamente positivo sia dal consumatore ma anche a livello agronomico abbiamo impostato ormai da qualche anno una filiera, una vera filiera, quella che possiamo definire una filiera tutta tondo fatta dall'inizio alla fine, cioè Sapise che coordina tutti gli aspetti di tipo commerciale e Sapise che poi è la parte principale, il partner principale anche per il ricevimento della merce prodotta dagli agricoltori.